Riunione dei capi gruppo consigliari del comune di Aversa per fare il punto sul trasloco del tribunale. Un nuovo summit a poco più di tre settimane dalla data fissata per l'inaugurazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli Nord nella sede del castello aragonese. Da qualche giorno infatti i primi faldoni da via Corcione sono stati trasportati a piazza di Riesse Trento mentre i fabbri sono al lavoro per smontare le gabbie e adattarle a quelle della nuova sede. E se ad Aversa si stringono i tempi per il trasloco, le sedi giudiziarie di Marano Casori a Ischia resteranno in funzione per altri 12 mesi. Lo ha stabilito un decreto del governo che di fatto accoglie le sollecitazioni del presidente del tribunale di Napoli Carlo Alemi e quelle formulate nel corso degli ultimi mesi dalle amministrazioni comunali e dai rappresentanti della vocatura partenopea. Le sezioni di staccate che avrebbero dovuto chiudere i battenti il prossimo 13 settembre in concomitanza con l'entrata in funzione del nuovo tribunale di Aversa continueranno ad espletare le proprie funzioni. Procedimenti limitati allo smaltimento dei processi in carico anche le sezioni di staccate di Afragola e Fratta Maggiore. Migliaia di cause che non graveranno tuttavia sulla nuova struttura giudiziaria versana né tanto meno sulla sede centrale del tribunale di Napoli.